Cosa succede quando una persona muore? La sua anima lascia il corpo, ma per un periodo che normalmente è di un mese, 49 giorni, a seconda un po' delle tradizioni, rimane vicina ai suoi cari, rimane vicina al corpo, alla sua casa, eccetera. Questo perché ha un tempo di metabolizzazione prima di iniziare il suo viaggio. In questa fase, in questi giorni, l'anima si prende cura di tutte quelle situazioni ancora irrisolte, per cui è facile che i propri cari, come è successo a me, riescano a percepirla, a vederla, attraverso i sogni, attraverso quelle che potremmo definire delle allucinazioni, perché quell'anima ha ancora qualcosa da dire, da comunicare, da condividere. Passati quei giorni, ecco che si trova di fronte a un bivio. Da una parte, il suo viaggio dovrebbe essere quello di, secondo la tradizione andina, arrivare al mondo di sopra, dove in un certo senso c'è una sorta di paradiso, ma in realtà è una continuazione di quello che è il proprio cammino esperienziale come energia e come anima. Ma, in alcuni casi, quell'anima può rimanere incastrata, rimanere bloccata su questo piano dell'esistenza e diventa il famoso fantasma, quello che troviamo nei film e nei telefilm come Ghost Whisper. Ecco allora che lo sciamano, essendo psicopompo, ha il compito e l'obiettivo di aiutare queste anime nel proprio trapasso.